Per la provincia di Ravenna sono stati giorni difficilissimi, senza considerare il pesantissimo incendio di ieri a Faenza, ma il maltempo dei giorni precedenti ha colpito in maniera molto forte quattro comuni della nostra provincia, Faenza, Castel Bolognese, Conselice e Bagnacavallo e ha generato tantissime frane nei località di Collina. Si sta ovviamente lavorando sia sul versante dei ripristini che sul versante degli indenizi, ma è fondamentale che nei prossimi giorni, che rischiano di essere di forte maltempo, ci sia la massima attenzione. L'emergenza purtroppo non è finita, il nostro territorio dopo quello che è successo è molto fragile e quindi in tutto il territorio, anche nel Comune di Ravenna, dove finora non ci sono stati danni, va prestata la massima attenzione a tutte le arginature, alle zone in prossimità dei fiumi, che finora ovviamente hanno retto, ma che non si può prevedere cosa faranno se dovrà verificarsi un nuovo evento calamitoso. Quindi invito tutti i cittadini della provincia, ma anche quelli del Comune di Ravenna, a prestare la massima attenzione, a tenere monitorato il sito del Comune, i canali social e appunto ad approcciarsi ai prossimi giorni con grande cautela.